buon pomeriggio a tutti e benvenuti salve a tutti innanzitutto grazie 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 per la vostra presenza come al solito ai nostri webinar webinar di audio sales per chi fosse la prima volta che partecipa ai nostri webinar io sono senio corbini product specialist di audio sales trovate nella slide che vedete diciamo a schermo quello che è il mio contatto il mio indirizzo mail quindi se avete dubbi domande perplessità su quello che trattiamo durante questo webinar durante i webinar successivi o su quello che abbiamo trattato nei webinar precedenti vi invito fortemente a contattarmi tramite il l'indirizzo mail comunque se scrivete segno corbini su google trovate anche il numero di telefono tutto quanto quindi no problem da questo punto di vista bene come dicevo grazie da parte di audio sales diciamo per chi ha già visto webinar della nostra serie focus on sono ormai due mesi che diciamo ci teniamo a mantenervi informati su quelle che sono le tecnologie che distribuiamo e soprattutto ci teniamo a fare formazione stamattina abbiamo fatto formazione sul brand pro cab e oggi ci occupiamo di martinaudio la settimana prossima abbiamo altri webinar su xilica abbiamo un ampio programma e vedo anche dai presenti che qualcuno di voi ormai ci segue da un bel po' e fa molto piacere vedere che non siete andati via insomma se in due mesi non ci avete abbandonato vuol dire che tutto sommato qualche cosina siamo riusciti a trasferirvi che ci fa molto 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 piacere detto questo quindi vi ricordo che come audio sales abbiamo una serie di canali social facebook linkedin instagram youtube vi ricordo che sul canale youtube stanno piano piano uploadando tutti i video iniziano a essere un bel numero ormai online quindi se per caso aveste perso qualche puntata con qualche webinar siete benvenuti ad andare a visualizzarli sul nostro canale youtube vi ricordo anche che abbiamo un sito web www.audiosales.it abbiamo una newsletter alla quale vi potete iscrivere per rimanere aggiornati su quello che è quelle che sono le nostre tematiche detto questo l'introduzione nel tempo si è velocizzata detto questo buttiamoci subito nell'argomento di oggi che è martin audio online e non solo martin audio online ma vedremo anche le soluzioni di martin audio per l'installazione nello specifico in fondo al webinar daremo un'occhiata anche a quella che è la serie adorn di martin audio che è pensata specificatamente per il mondo dell'installazione quindi come andremo a sviluppare questo retta che passiamo insieme partiamo dall'introduzione su quello che è il sistema online vedremo le applicazioni andremo ad analizzare diffusori che sono la componente del appunto dell'online vedremo quello che è la parte hardware intesa come rigging e connessioni cablaggio configurazioni possibili gli amplificatori da utilizzare e il software che utilizza la serie online per l'ottimizzazione essendo un line array chiaramente ha bisogno di un software per la progettazione e per l'implementazione dei parametri dei coefficienti all'interno dei dsp che lo gestiscono fatto questo andremo ad analizzare la serie adorn nei suoi componenti in modo tale che avrete una panoramica a fine webinar di quelle che sono le soluzioni prettamente da installazione di martin audio ok bene detto questo quando si parla di un micro line array io vi ho messo volutamente la figura che vedete attualmente nella slide per farvi capire che il diffusore e benché dall'immagine sembra un impianto da concerto a vederlo là sotto ma in realtà è un micro line array ovvero è estremamente compatto vedete si tiene in mano nel singolo modulo la cosa interessante è che è pensato compatto proprio per essere integrato dove per essere integrato nelle situazioni nelle situazioni dove dal punto di vista architetturale architettonico è necessario non avere un ingombro levato e soprattutto dobbiamo realizzare un qualche cosa che è dal punto di vista visivo diciamo accattivante e è in grado di soddisfare le esigenze anche di eventuali architetti progettisti dal punto di vista proprio estetico essendo molto compatto mi permette innanzitutto di poterlo nascondere poterlo mettere in posti dove non è diciamo dove non ingombra più di tanto ma soprattutto essendo compatto avrà un peso ridotto e di conseguenza potrò andare a costruire un array piuttosto importante come il numero di cabinet per poter raggiungere in distanza senza dover avere strutture che sono particolarmente resistenti oppure specificatamente pensate se dovessimo fare una colonna di 24 sistemi con un line array tradizionale il peso sarebbe veramente importante mentre questo oggetto qua è fatto in modo tale da poter fare colone fino a 24 sistemi realmente se io ho una sala estremamente lunga l'idea è quella dell'utilizzare il concetto del line array per poter andare in profondità senza eccitare eccessivamente l'ambiente e quindi mantenere il tempo di reverberazione abbastanza basso in modo tale da non penalizzare troppo l'intelligibilità del parlato e del musicale perché questo oggetto è pensato sia per parlato che per diffusione musicale ok se guardiamo alcune applicazioni vediamo che nelle figure che vi ho messo vediamo che è utilizzato per esempio in un museo lo vediamo appeso in alto è veramente piccolino riesco a gestire diciamo a andare a fare diffusione in maniera anche diciamo molto carina se volete si integra molto bene nelle strutture quindi musei stazioni se ci fate caso qua sopra abbiamo le mie colonnine che sono la mia omniline oppure chiese abbiamo qua una colonna di a vederli a occhio sembrano 12 o 16 non li ho contati però vedete non è nemmeno una chiesa scusatemi è un auditorium abbiamo un altro auditorium qua vedete che si integra facilmente al lato dello schermo abbiamo un altro auditorium quindi chiese auditorium anche barra perché comunque io posso tranquillamente andare ad inserirlo in una situazione come il bar e nasconderlo tenendo conto che diciamo le dimensioni compatte e soprattutto il sistema di rigging mi permettono di non avere per forza la struttura imponente di sospensione che di solito associamo al concetto di line array quindi non avete nessun motore nessun avete o la staffa o il cavo d'acciaio che riesce a sostenerlo vedete che la staffa è fatta in maniera estremamente pulita il dietro del cabinet completamente coperto volendo ci sono diciamo degli accessori che servono a renderlo ancora più pulito dal punto di vista visivo quindi l'idea è dell'avere il vantaggio dell'anarrei però nell'installazione quindi dimensioni più compatte per poter essere integrato in tutti gli ambienti dai bar ai ristoranti al auditorium cambierà la dimensione della colonna ovviamente un auditorium avrà necessità di più diffusori rispetto a un ristorante però l'idea è quella di non rinunciare assolutamente al lato estetico ok bene giusto mi interessava far vedere un po di applicazioni per far vedere realmente che l'impatto visivo non è così importante come potrebbe essere quello che associamo normalmente all'anarrei se noi guardiamo le proporzioni delle figure abbiamo in corrispondenza della stazione pensato un aeroporto anche in un aeroporto posso inserirlo quindi tutte le volte che ho ambienti grandi molto riverberanti usare online array significa andare in distanza senza eccitare troppo l'ambiente se questa è una persona più o meno il line array è forse anche un pochettino più basso in questo caso della persona come dimensioni quindi riesco diciamo a nasconderlo molto bene all'interno della mia struttura ok ora quindi fondamentalmente che cos'è e qua lo vediamo lo vediamo in questo momento nella versione con la griglia davanti nel senso che normalmente c'è la griglia però la griglia si può togliere per ispezionare i componenti quindi quali sono le caratteristiche di questo line array caratteristiche principali la parola micro dice tutto cioè quell'immagine io l'ho voluta mettere come prima come immagine il diffusore nelle mani di una persona è realmente di queste dimensioni ok noi ne abbiamo uno installato fra l'altro in showroom nel caso in cui voi in futuro chiaramente quando ci sarà più libertà di movimento più più di movimento di assembramento sappiate che se siete intenzionati ad ascoltarlo ce l'abbiamo disponibile per poterlo ascoltare quello che è importante specificare è che è un line array micro modulare cosa vuol dire modulare che posso scegliere io la risoluzione con cui voglio pilotarlo cioè oltre che a decidere il numero di cabinet posso decidere se pilotare ogni singolo cabinet con un amplificatore oppure andare con risoluzioni inferiori è estremamente flessibile in quanto riesco ad adattarmi alla maggior parte delle venue del diciamo degli ambienti in cui vado ad installarlo e tramite software riesco a correggerne il funzionamento vedremo come è possibile una cosa del genere ma in realtà se noi scoperchiassimo la griglia scopriremo che innanzitutto ha due driver per le basse frequenze più a più driver per le alte frequenze molto avvicinati chiaramente è un due vie quindi come è che riesco ad ottimizzarlo se utilizzo una risoluzione di un box per diciamo canali di processamento riesco in qualche maniera a far interagire le varie vie ricorreggendo quello che è il puntamento del mio line array questo mi permette di avere una massima precisione proprio perché il tutto è processato in tempo reale da una dsp e come vi dicevo è un oggetto che va bene sia per il musicale sia per il parlato è ovvio che non ci fate un concerto in uno stadio ok nel senso che non è un impianto pensato per grandi eventi live dove c'è bisogno di estrema pressione sonora e c'è bisogno di una determinato tipo di impianti però se io ho il locale dove c'è un palco dove abbiamo musica dal vivo ok questo va benissimo la cosa interessante è che proprio grazie alle dimensioni ha un impatto visivo ridotto e inoltre grazie a tutti gli accessori dal punto di vista del design è estremamente piacevole e di conseguenza non ci sono cablaggi esposti non ci sono maniglie non c'è niente che ricordi il mondo del live sound o meglio il mondo il background dal cui viene martinaudio perché perché si è fatto un ragionamento di applicazione questo tipo di prodotto è destinato al mondo dell'installazione e il mondo dell'installazione sappiamo che ha comunque dei requisiti estetici che io devo in qualche maniera soddisfare ok ora questo è il diffusore senza la griglia come vi dicevo ho i due driver per le basse che sono diciamo simmetrici innanzitutto sono orientati verso l'interno in modo tale da creare un pattern cardioide di diffusione abbiamo i cinque diffusore driver delle alte frequenze che sono da 0,55 pollici e sono veramente ravvicinati proprio per creare un fronte d'onda compatto la risposta in frequenza va da 85 Hz a 20 kHz con diciamo uno scarto di più o meno 3 decibel se guardo in realtà sotto gli 85 Hz ci scende arriva fino a 76 per intendersi però un'attenuazione di 10 dB rispetto al segnale 85 Hz vediamo l'SPL comunque è in grado di riprodurre un bel po' di SPL nel senso si arriva a 104 decibel SPL dove abbiamo 110 decibel di picco e la cosa interessante è che è ottimizzato per avere una dispersione orizzontale di 100 gradi quindi mi permette di coprire uno spazio orizzontale estremamente esteso quindi ho un'ampia dispersione orizzontale la dispersione verticale è di 5 gradi ma si parla di 5 gradi a modulo questo vuol dire che se devo ragionare sulla dispersione totale ci manca un verticale qua nella slide se devo pensare alla dispersione totale verticale chiaramente sarà definita dal numero di cabinet e la somma di tutte le angolazioni che mi danno un array più o meno curvo la cosa interessante è che il singolo cabinet ha un'impedenza di 16 ohm questo ci interessa perché vedremo come andare a realizzare i cablaggi verso gli amplificatori tenete conto che la serie da installazione di Martin Audio se lavora in bassa impedenza tende a lavorare a valori di impedenza più alti rispetto a quelli a cui siamo abituati perché? perché almeno riusciamo ad ottimizzare il numero di cabinet da mettere in parallelo all'interno dello stesso canale dell'amplificatore quindi in realtà sembra strana come cosa ma è un vantaggio dal punto di vista poi dell'ottimizzazione dei canali dell'amplificatore se io dovessi io vi ho detto che il mio line array mi permette di fare che cosa? mi permette di controllare vedremo tramite software ottimizzo la dispersione però tramite l'orientamento riesco a fare che cosa? riesco a controllare la dispersione orizzontale e vedo se noi dovessimo ragionare su quella che è la dispersione orizzontale sulle frequenze vedremmo che è estremamente direttivo nel senso che arriviamo a 1250 hertz da 1250 più o meno fino ai 18 kilohertz abbiamo un angolatura un angolo di dispersione orizzontale ovviamente abbastanza costante questo è che cosa mi si ripercuote? mi si ripercuote nel fatto che se io mi sposto a sinistra o a destra avendo un'angolazione di dispersione estremamente uniforme non mi cambia l'equilibrio tra le varie frequenze quindi è estremamente interessante e diciamo estremamente funzionale la dispersione orizzontale misurata non in generale globalmente ma misurata su tutto lo spettro delle frequenze ok? ora dal punto di vista della parte proprio meccanica hardware io vi ho detto che ci sono una serie di accessori che mi permettono di fare che cosa? che mi permettono di sospenderlo senza appunto dover utilizzare motori, catene o roba del genere abbiamo una serie di diciamo bracket quindi bracci che posso attaccare al muro quindi posso imbullonare al muro e in più ho la possibilità di fare che cosa? ho la possibilità di mettere una copertura in modo tale che non si vedano diciamo determinati parti che sono per il rigging o per l'ancoraggio che dal punto di vista estetico potrebbero diciamo infastidire ok? quindi ho tutta una serie di accessori che mi permettono di fare che cosa? mi permettono per esempio di sospendere il mio array in che modo? con diciamo il cavo d'acciaio vedete ho comunque anche la possibilità di agganciare nel retro il mio array quello che sono diciamo le aperture nell'ultimo cabinet possono essere chiuse con quella copertura che avevamo nella slide precedente in più vedete qua ho la possibilità di utilizzare invece che il gancio nel retro posso utilizzare il braccio e poi utilizzo un cavo d'acciaio su questo lato questo significa che non avrò nessun cavo verso l'alto e sarà dal punto di vista estetico ancora più pulito il funzionamento chiaramente dietro tutto un binario nel quale scorre il cablaggio in maniera ordinata e pulita i connettori sono tutti quanti coperti ora fra un attimo vedremo come è fatto dietro il nostro diffusore però il cavo chiaramente è fatto in modo tale che possa passare all'interno del braccio per non essere assolutamente visto quindi dal punto di vista estetico c'è la massima attenzione ok vi dicevo come è fatto dentro se ci fate caso io ho la possibilità quello che vediamo nelle slide è il retro senza la placca di copertura appunto del del retro e perché ve l'ho messa questa slide per farvi vedere come le angolazioni possono essere impostate vedere 5 4 3 2 1 o 0 sono i gradi di angolazione dei vari diffusori che vanno da 1 a 5 gradi una volta che ho impostato le angolazioni ho questa maniglietta diciamo questa grappetta arancione che mi serve come blocco di sicurezza anche se poi tutto è imbullonato però mi serve come blocco di sicurezza per essere sicuro che ho unito il pin a destra e il pin a sinistra esattamente sulla stessa posizione vediamo che i terminali per il cablaggio arrivano diciamo sull'esterno poi io ripeto non è che questa piastra rimane verso l'esterno questo è dove vado poi a morsettare quello che è il mio cablaggio e vedo che ho le connessioni di input e di link nel caso in cui debba fare il mio la mia connessione in parallelo dal punto di vista del cablaggio abbiamo più possibilità chiaramente dipende dal numero dei cabinet che andate a connettere fra di sé e soprattutto dipende anche dalla risoluzione che andate a scegliere nello specifico se noi andiamo a vedere ho diciamo 4 diciamo se lo voglio pilotare ho 4 diffusori se li voglio pilotare a 4 ohm posso lavorare in parallelo perché ho diciamo la possibilità di lavorare in parallelo però ho la possibilità di lavorare anche in serie parallelo se ci fate caso io questa è una configurazione serie parallelo e quindi lavoro a 8 ohm con diciamo due gruppi di diffusori si lavora sempre in diciamo in parallelo anzi in serie parallelo posso lavorare a 4 ohm su 16 diffusori quindi ho una serie di configurazioni possibili tra l'altro il manuale il manuale che potete scaricare dal sito di martinaudio è estremamente dettagliato anche sulle possibili configurazioni sul cablaggio però in base alle proprie esigenze è possibile personalizzare il cablaggio in base alle proprie esigenze ma anche in base alla soluzione che si sceglie in che senso nel senso che allora innanzitutto gli amplificatori con cui vado a pilotare questo diciamo questa soluzione la scelta di martinaudio è o la serie icon icon scusatemi icon i k81 oppure la serie via che è la diciamo la serie da installazione però ricordatevi che la serie via e deve essere accoppiata con il processore di segnale la dsp di 4.0 che vi permette di fare il processamento per poter lavorare con online quindi o icon i k81 oppure via queste sono le due soluzioni di martinaudio per la parte di amplificazione io vi parlavo prima di risoluzione scalabile che cosa si intende io posso avere più configurazione posso avere una configurazione che si chiama hey box resolution vuol dire che utilizzo per 8 8 box quindi 8 diffusori sto utilizzando un solo canale di amplificazione ok è ovvio che un canale di amplificazione significa un canale di processamento e questo mi significa che fondamentalmente non avrò grosse possibilità di intervento sull'ottimizzazione del mio sistema ok altrimenti posso poi non è proprio un canale è un channel set perché poi scopriremo che questo essendo un diffusore a due vie potete pilotarlo o con un canale o con due canali però fatto sta che ogni box le regolazioni nel caso del 8 box resolution le regolazioni che fate sul box in alto corrispondono alle regolazioni che fate sul box in basso perché il canale di processamento è uno solo l'alternativa è quella di andare su una for box resolution ovvero un channel set ogni quattro online per cui potrei spezzare il mio array e decidere che la parte che in alto viene equalizzata per esempio da quello che c'è in basso alternativamente ho la possibilità chiaramente è più costosa però è più performante di avere il one box resolution ovvero per ogni box o un channel set quindi un set di amplificazione ok quindi ho la possibilità di configurare il mio array come meglio preferisco la cosa interessante è notare come mi varia cioè come varia la risposta di questo sistema aumentando la risoluzione nel senso che quello che stiamo vedendo qua è diciamo il paragone fra una risoluzione 8 box ovvero tutti e gli 8 box hanno un channel set quindi ipotizziamo di pilotare tutto con gli stessi canali di amplificazione e la risoluzione a un box ovvero a un box significa che tutti i diffusori hanno ogni diffusore ha il suo canale di amplificazione è interessante vedere il risultato facendo delle misure dove io vedo che la parte blu è la misura dietro al mio speaker la parte la misura rossa è la misura davanti proprio davanti in prima fila la misura gialla è una misura a metà sala e la misura verde è una misura a fondo sala io vedo che aumentando la risoluzione le due le tre misure diventano molto più simili quindi più aumento la risoluzione e più uniformità avrò all'interno della mia sala la cosa interessante che con la risoluzione a un box si diciamo ottimizza anche quella che è diciamo la diffusione nel retro del vostro array e questo è particolarmente utile tutte le volte che volete evitare problemi di feedback ok quindi o diciamo più aumento la risoluzione e più uniformità in frequenza avrò per tutta la sala ok dal punto di vista dell'amplificazione io vi ho detto che c'è la possibilità dell'iconi k81 che è un amplificatore diciamo a otto canali classe d ok a la possibilità di diciamo avere ha integrato un dsp gestisce fino a 1000 watt rms globalmente o un pannello frontale che posso utilizzare per richiamare preset per poter lavorare ok o le connessioni ethernet che mi permettono di configurare l'amplificatore controllarlo e monitorarlo a ingressi analogici dante e asebu e soprattutto essendo controllato tramite il software vnet che fra poco andremo a vedere che cos'è ok essendo controllato tramite il software vnet mi permette che fra l'altro lo stesso di mla o di altri sistemi di martin audio che hanno una diciamo una scalabilità ok e essendo controllato da vnet però mi permette di gestire gruppo quindi gruppi e eq su più layer ok nel caso in cui non voglio utilizzare l'icon l'icolo 81 posso andare ad utilizzare che cosa utilizzo gli amplificatori della serie via che esistono in quattro modelli che ci sono quattro modelli le avete qua 25 02 50 02 20 04 50 04 con configurazioni che vanno da due per due fino a due per quattro quindi 222 out due in quattro out sono amplificatori anche questi in classe di vanno nel caso del via 2004 8 si parla di 250 watt per canale ok e si arriva al via 5200 a 1600 watt a canale non diceva perché devo prendere uno piuttosto che l'altro dipende dal numero di box e dalla configurazione che state utilizzando cosa importante questo tipo di amplificatore deve essere utilizzato per pilotare la serie online insieme al processore dx 4.0 è un processore questo qua che innanzitutto vi permette di controllare controllare il vostro sistema tramite bionet ok quindi ha la connessione ethernet per configurazione controllo monitoraggio a 4 in e 8 out a un dsp integrato quattro canali di processamento dsp mi è rimasto un fino a mille watt rms perdonate non c'entra niente questo è un sensore ho la possibilità di fare che cosa ho la possibilità di fare group e diciamo multilayer e quindi praticamente quell'oggetto aggiunge il diciamo il dx 4.0 aggiunge la parte di dsp che non abbiamo dentro gli amplificatori via quindi o prendete gli amplificatori via con il dx 4.0 o andate a prendere un unico prodotto che è l'icon ik 81 che chiaramente è un prodotto di uno step uno step più in alto anche dal punto di vista qualitativo audio e tutto quanto ok scelta vostra quale dei due è più conveniente una cosa una riflessione che onestamente mi viene da fare è qua voi avete due macchine di l'area avete una sola qua l'ingombro è diciamo è ingombro o un ingombro maggiore rispetto che a prendere l'icon lk 81 dal punto di vista del software con cui viene gestito questo diciamo questo line array attenzione anzi non come viene gestito ma come viene progettato e ottimizzato utilizziamo il software che si chiama display attualmente dal punto di vista di display siamo la versione 2.3 display che cos'è è un software per pensato per mla però poi viene utilizzato per tutti i prodotti con risoluzione scalabile che cosa mi permette di fare lo vedremo fra un attimo perché ho un paio di esempi ma lo utilizzo per fare il disegno della mia venue dopodiché faccio l'ottimizzazione e quello che va a fare display e generare fuori generare un file che contiene tutte le angolazioni dei cabinet e o meglio una configurazione che contiene le angolazioni dei cabinet che serve a me installatore però contiene anche tutti i coefficienti da inserire all'interno del dsp quindi o nel caso di iphone ik81 direttamente dentro l'iphone oppure dentro il dx 4 nel caso in cui io abbia gli amplificatori della serie via la cosa interessante è che questi coefficienti vengono caricati negli amplificatori ma soprattutto il ragionamento che viene fatto dal punto di vista del del lavoro è una volta che ho disegnato la mia venue inserite le misure riesco grazie al processamento e grazie al fatto che magari riesco scelgo di utilizzare la risoluzione un box quella one box resolution ovvero ogni box al suo canale di processamento questo mi significa che io riesco a definire delle zone di hard avoid dove non voglio assolutamente avere troppa pressione sonora e il tutto tramite il processamento viene controllato e quindi si ottimizza quello che è il puntamento originale dell'array ok dal punto di vista degli step da fare questo è il software display dove la prima cosa da fare è disegnare la mia venue io ho degli strumenti abbastanza intuitivi per disegnare la venue o la possibilità infatti di utilizzare diciamo questi pulsanti per andare a definire quella che è diciamo la mia zona in cui andrò a installare il mio bellissimo omni line dopodiché il secondo step è andare a definire che cosa andare a definire vedete questa la sezione orizzontale piano orizzontale vado a definire in verde è la zona di copertura tutto quello che è rosso è una zona vedete io posso decidere delle zone direttamente con questi pulsanti dove ho una zona di hard avoid una zona di non audience è una zona di audience quindi in poche parole io sto chiedendo al mio display di ottimizzare l'array in modo tale che qua so che non c'è assolutamente audience l'audience sta a sedere qua in questa diciamo in questa zona verde infatti vedo che il fascio di copertura del mio array è puntato sulla zona verde la zona blu che sarebbe il palco è un hard avoid ovvero una situazione in cui non voglio assolutamente che ci possa andare dell'audio perché altrimenti potrei avere dei feedback una volta che ho impostato la zona di copertura o le zone di copertura vedete che nel software è possibile inserire se la mia audience è in piedi a sedere oppure metto custom che ho la possibilità di fare un bel po di cose una volta che ho impostato le zone di copertura il software calcola e ottimizza tutti quanti gli angoli vedete che al diciamo in alto sulla destra vi viene data l'informazione del che tipologia di che angolazione voglio utilizzare che ora questa immagine specifico questa non ha l'omniline però vedo tutti i dettagli che riguardano anche la dispersione orizzontale all'interno delle frequenze immaginatevi vedete che qua ho le frequenze e qua ho i miei anzi questa è la distribuzione di esatto di direttività ho quindi poi la possibilità di andare a schiacciare sul pulsante optimize una volta che ho schiacciato su optimize se lui si calcola tutto quanto vedo la risoluzione scelgo quanta quanta importanza voglio dare a diciamo una zona piuttosto che l'altra una volta che ho fatto quello che devo andare a fare è uploadare il file configurato dal display direttamente agli amplificatori accendo e posso dare segnale e il mio amplificatore il mio sistema funziona da lì in poi fino a che non farò l'upload di un'altra configurazione funzionerà in quel modo quindi dal punto di vista della progettazione prima che voi pensiate che sia troppo complicato in realtà questo lavoro lo fa la prima volta una volta ottimizzato tutto quanto io mi limiterò semplicemente a mandare il mio segnale dentro gli amplificatori che gestiranno correttamente il nostro line array l'altro software che ho è il software bionet che non è un software di progettazione o meglio di puntamento e ottimizzazione ma il software di controllo cioè immaginiamoci di aver scarico mandato in tempo reale le mie ottimizzazioni fatte da display attenzione le ottimizzazioni in realtà le carico tramite bionet le fa display mi passa il file e tramite bionet le sparo dentro o l'amplificatore o il processore mi permette però di gestire il sistema perché non è che devo riprogettare di continuo appuntamento una volta che ho fatto appuntamento in un auditorio in un'installazione bene o male per tutta almeno per un bel po so che rimarrà quella configurazione ok non siamo in una situazione live dove tutte le sere tiro sull'impianto lo butto giù qua stiamo parlando di installazione fissa quindi faccio il progetto con display tiro fuori la parte di ottimizzazione la carico su bionet in modo tale da poterla istradare verso gli amplificatori allora uno potrebbe pensare ma allora che ti serve bionet bionet è comunque quel software che mi permette di gestire gli amplificatori e fare le operazioni che si fanno quotidianamente tipo alzare il volume abbassare il volume mettere in mute cambiare un'equalizzazione globale cambiare un delay quindi gestisco tutti i prodotti compatibili con bionet anche l'MLA è fra l'altro quindi dalla serie diciamo piccolina fino alla serie top di gamma di martin audio mi per posso richiamare dei preset se mi sono fatto di preset di qualizzazione li posso richiamare posso richiamare delle qualizzazioni custom posso salvarle posso richiamare una configurazione di sistema ok monitoro le performance degli amplificatori cioè vedo quanta ed room effettivamente ho ancora a disposizione vedo lo stato degli amplificatori e posso fare gli update firmware direttamente da bionet quindi se dovessimo riassumere quello di cui abbiamo parlato riguarda i software di software a disposizione sono due abbiamo bionet e display display al software di progettazione bionet è il software di gestione ok questo per darvi quella che è una panoramica dell'utilizzo dell'ovni line ripeto l'idea è quella dell'utilizzare il concetto del line array per andare a diffondere a fare diffusione in distanza senza dover per forza caricare l'energia all'ambiente mantenendo il livello di intellegibilità più che accettabile ok quindi l'omniline è una soluzione elegante da installazione proposta da martin audio vi ripeto quello che mi serve i box scelgo la configurazione e di conseguenza la risoluzione e il numero di amplificatori che mi servono di conseguenza gli amplificatori possibili sono o l'ik81 o il via nel caso dell'amplificatore via deve ovviamente interfacciarmi con il processore di 4.0 che si interfaccia con bionet ok ovviamente quando andrete a caricare i preset del o meglio i le ottimizzazioni fatte con display dentro il vostro processore il processo il bionet saprà che non è l'icon ma è il processore di 4.0 ok quindi questo era per darvi quella che è una panoramica quello che era una panoramica sulla serie o line è una cosa che a volte ci si scorda che esiste perché si pensa a martin audio come una soluzione estremamente musicale se io penso a martin audio penso ai pink floyd ai concerti dei pink floyd no eh agli f2 penso a agli impianti che hanno fatto la storia di un determinato periodo eh rock eh musicale però martin audio ha applicato la sua tecnologia costruendo un line array da installazione ragionando su quelli che sono i requisiti dell'installazione anche altre ditte hanno diciamo hanno sono entrate nel mondo dell'installazione ma martin audio ha creato una linea appositamente pensata secondo i requisiti dell'installazione ovvero l'ingombro deve essere ridotto devo avere il massimo della personalizzazione l'estetica deve essere accettabile tutte queste cose qua sono racchiuse all'interno della serie o milan come ultima cosa io ve la dico perché purtroppo non ve la posso dimostrare vi garantisco che ha il sound martin audio nel senso che la qualità sonora c'è tutta e su questo vi invito appena sarà possibile a venire ad ascoltarlo sarà un piacere per noi accogliervi perché è veramente interessante come soluzione soprattutto la cosa interessante è che tramite appunto essendo una soluzione line array ripeto io ve lo dico preferirei che voi l'ascoltaste perché se no potrei essere io che mi faccio autopubblicità però la cosa interessante è il fatto che essendo line array riesco a mantenere lo stesso livello di pressione sonora in distanza cioè comunque a tutti gli effetti online array per cui avrò il mio fronte d'onda che a differenza della soluzione point source che ha una diciamo un fronte d'onda cilindrico scusate sperico noi utilizzeremo nel caso dell'ina array un fronte d'onda cilindrico in modo tale che ogni raddoppio di distanza non ho più i classici 6 decibel di abbattimento ma ho soli 3 decibel di abbattimento e uno dice qualche poche sia 3 decibel di differenza è uguale no 3 decibel è tanto ok quando si parla soprattutto di raddoppio della distanza ok quindi l'idea è quella dell'utilizzare la tecnologia line array all'interno in una situazione da installazione compatta pesi contenuti estetica accettabile anzi più che accettabile e soprattutto tutte le connessioni coperte in modo tale che piaccia anche nella soluzione in cui è estremamente importante il lato estetico penso a un apple store se uno pensa all'idea del retail di lusso è chiaro che non posso me cioè devo mettere qualche cosa che è si integra in maniera estremamente piacevole con quello che è il design ok quindi la serie omni line è proprio questo detto vista la serie omni line diamo un'occhiata veloce anche a quella che è la serie adorno io l'ho voluto ammettere so che il webinar era improntato sulla omni line però all'ultimo momento abbiamo deciso di inserire anche la serie adorno perché abbiamo visto che la parte di installazione di martin audio spesso non viene considerata più di tanto e devo dire che nell'ultimo periodo ha avuto un bella una bella crescita vediamo qua per esempio dei diffusori nell'immagine che vediamo che è la panoramica di tutte i diffusori della serie adorno mancano il sub ma che sono le 6 110 però in realtà non è un sub pensato solo per la serie adorno ok l'idea della serie adorno è che è una serie da installazioni pensata per diciamo aeroporti stazioni ok ristoranti bar negozi educational allora sull'educational tenete conto che un auditorium se penso all'educational penso all'auditorium e mi verrebbe da pensarci una omni line ma se le sale sono piccoline io posso comunque utilizzare la serie adorno magari mettendo di diffusori a incasso a controsoffitto ok oppure uffici quindi avete un'ampia selezione nella tipologia di diffusori che potete utilizzare ok andiamo ad analizzarli uno a uno partendo ok da quelli che sono i diffusori da soffitto ovvero sono dei diffusori che esistono in due versioni 4 pollici o 5,25 pollici hanno due differenti profondità ovvero ne abbiamo due che sono un po più contenuti e uno che ha una profondità maggiore ok sono due vie e sono compatibili sia con linee a 70 o 100 volt che con linee a bassa impedenza ripeto 16 ohm perché per provare a sfruttare il concetto della linea 100 volt qual è il vantaggio della linea 100 volt uno dei grossi vantaggi è che io non ho il problema dell'impedenza avendo il trasformatore no e di conseguenza riesco a metterne veramente tante una dopo l'altra senza dover senza scendere troppo con l'impedenza per il finale ecco in bassa impedenza chiaramente non lo posso fare questo ragionamento perché non ho il trasformatore però quello che posso fare è dire ok partiamo con un diffusore che è un'impedenza più bassa in modo tale che riesco a mettermi di più all'interno dello stesso diciamo dello stesso canale se le vogliamo vedere comparati sono l'acs 40 tsv acs 55 tsv doppio chiaramente acs 55 tv doppio come vi dicevo esistono nella versione più o meno profonda nello specifico abbiamo la versione da 40 significa 4 pollici vedete quattro pollici quindi le basse sono da quattro pollici le alte da 0,75 o la versione diciamo poco profonda per le quattro pollici ok ho la possibilità di dire che cosa ho la possibilità di dirgli guarda voglio anche voglio anzi la versione il driver a 5 pollice 25 per avere per scendere diciamo per avere più potenza fondamentalmente e soprattutto la cosa interessante è che posso scegliere se avere la profondità più o meno contenuta vedete la 55 ts quindi driver delle basse a 5 pollici e 25 anche la 55 t al driver delle basse a 5 pollici e 25 ma è più profonda questo significa che riesco a scendere fino a 62 hertz ok il picco è 130 113 decibel la cosa interessante è che è un angolo di apertura di 150 gradi quindi essendo un diffusore a soffitto o una copertura abbastanza ampia senza andare in un in una situazione in cui rischio di interagire troppo con quello che c'ho accanto quindi a seconda diciamo del di quello che devo fare sceglierò la cs55 o la cs40 viene da pensare che se devo andare su musica e scende molto in basso in frequenza sceglierei otterei per la cs55 tv doppio tenendo conto che però un ingombro posteriore più elevato ok quindi queste sono più o meno le variabili che dovrebbero servirmi per scegliere l'uno piuttosto che l'altro altra tipologia di diffusori è la serie da appendimento ok ora tenete conto che questo è la prima il primo esperimento di diffusore da appendimento di martinaudio nel senso che diffusore da appendimento significa che è un diffusore che sta appeso al soffitto e scende giù come se fosse una sorta di fioriera un lampadario ok esiste in versione bianca e nera ovviamente sono due vie o sono tutte e due acp 55 t e una black e una white per intendersi quindi sono tutte e due col driver da 5,25 pollici le alte frequenze sono sempre da 0,75 o una protezione da overload sulle singole vie perché un due vie abbiamo detto ad altre prestazioni e è compatibile sia colline a 70 100 volt che colline in bassa impedenza quindi anche qui 16 ohm in modo tale che se ho il bancone di un bar e ne voglio mettere quattro posso comunque pilotarli con un canale di amplificazione ok ora se noi dovessimo analizzarli meglio questi oggetti abbiamo la possibilità di vederne le caratteristiche vedete ho la versione anche nera qua non solo la versione bianca 109 decibel di picco un angolo di 150 gradi scendono fino a 56 hertz ok quindi sono estremamente interessanti come soluzioni nel caso in cui io voglia installare qualche cosa per esempio in un bar ripeto il banco nel bar secondo me è l'ideale alternare la luce con il diffusore luce diffusore potrebbe essere una soluzione interessante oppure la sala di un ristorante dove ho dei lampadari alternare lampadari con i diffusori a diciamo appesi è comunque una soluzione di design interessante che di solito agli architetti piace quindi abbiamo sempre quando parliamo di installazione c'è sempre quel fantomatico architetto che è lì che vi aspetta e dice ora va bene ha fatto tutto dal punto di vista tecnico è perfetto il progetto ma ora tocca a me dal punto di vista estetico e mi frega sempre no ecco l'idea è quella dell'avere un diffusore che è anche esteticamente gradevole e si basa anche su quelle che sono le tendenze del design ok ora sempre nella serie adorn arriva all'ultima diciamo possibilità ovvero le adorn da 4 pollici o da 5,25 pollici ovvero le 40 e le 55 la 40 è diciamo ai driver delle basse frequenze da 5 pollici e 25 esiste il modello t quando leggete la lettera t significa che sono hanno il lattista per trasformatore quindi sono pensate per linea a 70 volt oa 100 volt ok abbiamo come dicevamo prima i fantomatici 16 ohm come impedenza per fare che cosa ottimizzare il numero dei canali degli amplificatori ok il case è stampato è un due vie passive la cosa interessante è che sono molto compatte si tratta di box di questo tipo sono pensate per essere appesi a muro e infatti insieme abbiamo la staffa da muro dal punto di vista della copertura si parla di un'angolazione di 110 gradi chiaramente 110 gradi orizzontali per 80 gradi possono essere messi sia verticale che orizzontale chiaramente tenendo conto che non è non hanno una diciamo diffusione simmetrica devo stare attento perché se cambio l'orientamento mi cambia l'angolazione di copertura però comunque le posso mettere in entrambi i modi quindi se penso a l'integrazione in un diciamo in un in un palco per esempio potrei metterli integrati nella nella balausta del palco proprio incassato per fare magari una linea di diffusione tipo front field quindi riesco le posso incassare a muro posso fare un sacco di cose oltre che metterle chiaramente in in diciamo sulla staffa appese al nostro muro ok come diciamo esempio io vi ho fatto vedere mi ho messo qua chiaramente esistono bianche e nere vedete qua c'è sia la versione bianca che la versione vero vi ho fatto vedere alcuni esempi di messo qua alcuni esempi di installazione proprio per vedere ora perdonatemi effettivamente dici potrei scegliere un esempio più bello questo cavo e da quando l'ho messa e che dico porca miseria ma come mi è venuta in mente di mettere questa cosa qua come esempio sono tratti chiaramente dal sito di martin audio queste cose qua e se vedete però effettivamente sono qua le vedo installate con la staffa sono estremamente compatte tenendo conto che questo è il bancone del bar queste sono sono i diffusori quindi si riesce a integrarle nella struttura nel modo migliore qua il cavo bianco rimane sempre una mia scelta estetica di sicuro ci sarà un architetto che me la contesterà quindi preferisco lasciare i posteri larga sentenza detto questo l'ultima cosa che riguarda la ste la serie da installazione di martin audio è l'integrazione della serie adorn con il driver per le basse frequenze allora se io devo integrare le varie adorn posso utilizzare quello che è ls x 110 dove ovviamente la come nel diciamo nella nomenclatura martin audio s x 110 vuol dire un cono da 10 pollici ok poi il doppio avvolgimento una griglia in acciaio davanti che è rinforzata proprio per evitare che diciamo subisca delle diciamo dei venga danneggiato per esempio dai piedi delle persone perché dico dai piedi delle persone perché per il profilo che ha è pensato per essere anche messo sotto la seduta quindi tecnicamente lo potrei mettere anche sotto un bancone quindi se lo metto sotto il bancone magari ogni tanto si avvicinano ai piedi dei clienti avere la griglia significa avere una protezione o chiaramente l'impedenza di otto ohm e vedete che il foro di uscita è estremamente ampio questo perché perché almeno si riesce a ridurre quello che è il rumore dell'area non so se avete presente qual è il problema di tutti i subwoofer col bass reflex il problema è che il foro di uscita dell'area se troppo piccolo tende a essere rumoroso per cui mi viene in mente lo stereo quello dell'euronics che ha il bass reflex che quando scendete troppo in basso si sente proprio che sopra questa cosa qua viene attenuata dal foro di uscita che è ampio in modo tale che abbiamo musica e non rumore che è parecchio differente anche più diciamo più gradita quindi fondamentalmente abbiamo visto una panoramica di quella che è la anche la serie adon quindi fondamentalmente siamo andati a vedere che cosa siamo partiti dalla serie omni line la o line sta per o sta per omni omni line è online array micro line array da installazione abbiamo visto pregi difetti più o meno abbiamo visto come si configura come si installa fra l'altro sappiate che se andate sul sito di martin audio nella serie omni line o line trovate il manuale scaricabile mi fa vedere proprio step by step la parte di rigging come faccio a fissare le chiavi che vi servono chiaramente essendo da installazione non ho i pin removibili ma ho le viti però è estremamente interessante scaricarsi il manuale anche per vedere noi gli step che devo fare fisici perché mi immagino voi installatori prodotto bellissimo però poi se è difficile da installare diventa un casino per quanto riguarda la parte della progettazione con display non preoccupatevi che nel caso che veniamo incontro noi come audio sales ricordatevi che come audio se noi offriamo un servizio di assistenza e consulenza in modo tale chiaramente incluso nell'acquisto non è che facciamo a parte perché perché chiaramente è quello che vi era indicato come supporto prevendita no nel senso quindi nel caso non fatevi problemi a chiedere a noi se la configurazione corretta non è corretta lo facciamo regolarmente di andare incontro ai clienti nel caso in cui siate interessati sappiate che abbiamo una rete di agenti che è distribuita in tutte le diciamo in tutta italia nello specifico abbiamo dieci agenti commerciali che sono apposta per supportarvi nelle richieste quindi vi invito a contattare il vostro agente di zona per poterci in qualche maniera raggiungere oppure per domande di tipo tecnico potete scrivere direttamente a segno chiocciola audiosales.it in modo tale che diciamo chiariamo vediamo se la situazione che stavate progettando è fattibile con l'omniline se è una soluzione corretta oppure se magari è più interessante utilizzare la serie addon vi ricordo la serie addon è sempre da installazione però non è online array sono diffusori tradizionali sia da incasso abbiamo visto la versione da incasso 4 o 5 pollici 5,25 pollici per le basse frequenze e quindi da incasso determina il diametro diciamo del mio diffusore abbiamo visto la soluzione da appendimento sempre 4 pollici 5,25 pollici e abbiamo visto la serie addon da sospensione da staffa quindi le addon 40 e le 55 che sono anche questi 4 pollici 5,25 5 pollici diciamo 5,25 e chiaramente a seconda della soluzione scelgo l'uno o l'altro se ho bisogno nel subwoofer abbiamo l'SX 110 che ci permette appunto di andare a scendere in basso a livello di frequenza ok detto questo diciamo che quello che vi volevo dire con questo webinar io ve l'ho detto sono le 15 e 29 direi che dice dopo due mesi è imparato a essere puntuale diciamo nelle nelle durate dei webinar diciamo quello che volevo dire io ve l'ho detto vi ringrazio ancora a nome di audio sales per aver partecipato a questo webinar vi ricordo vi ricordo che abbiamo i nostri canali social che potete seguire vi ricordo che questo webinar verrà uploadato nel canale youtube nel caso in cui vogliate rivederlo e vi ricordo che appunto se andate a visitare il nostro sito web oltre al fatto che trovate magari anche i ulteriori dettagli riguardo all'omniline e alla serie adorn avete la possibilità di iscrivervi alla newsletter cosicché potete rimanere aggiornati su quello che è il futuro del cioè i prossimi che sono i prossimi appuntamenti o le novità in campo diciamo anche di marchi distribuiti ogni tanto ci svegliamo e dichiariamo che abbiamo acquisito un marchio questa settimana è successo con un marchio un piccolo marchio per chi è interessato ho creato un po di ho fatto un po di suspense così almeno andate a vedere sui nostri social quindi fondamentalmente grazie ancora per la partecipazione vi ricordo che settimana prossima avremo altri webinar ne abbiamo uno non è lì molto interessante fra l'altro sull'integrazione fra i audac e il software easy focus quindi mi raccomando stay tuned come dicono quelli social e buon pomeriggio buona serata e a presto grazie ancora nome di audio 6s per la partecipazione ciao a tutti